Dopo aver lasciato a mani in cuore il Pokémon Store, ci siamo spostati nel quartiere di Ueno ed ora stiamo passeggiando nel suo famosissimo parco. Vi sarà sicuramente capitato di vedere una foto di questo parco, con i suoi famosissimi ciliegi pieni di fiori rosa, chiamati Sakura. Infatti, durante il periodo di Anami, la festa giapponese che celebra la fioritura dei ciliegi, questo parco diventa punto di ritrovo per gli abitanti di Tokyo che si riuniscono qui per fare un picnic all'ombra dei quasi 8000 ciliegi che si trovano in questo parco. Siamo a maggio inoltratto, la fioritura dei ciliegi è ormai finita e probabilmente non siamo nel periodo migliore per vedere e apprezzare a pieno il parco. Abbiamo già trovato la scusa per poter tornare un'altra volta e magari la prossima volta useremo i mesi di marzo o aprile. Per vedere un altro mini episodio, clicca sul video qui di fianco. Per vedere un video completo, invece, clicca sul video qua sotto. Sui nostri social, invece, trovi altre foto di viaggio. Ti aspettiamo al nostro prossimo video!